Ciao ragazzi bentornati, io sono Jacopo da The Crypto Academy e oggi andiamo a farci una veloce analisi oggi guardiamo ADA Bitcoin, cioè il token di Cardano, grafico a un'ora guardiamo questo grafico perché è veramente molto interessante, ci sono molti spunti di analisi che spero vi possano tornare utili magari ve li segnate e vi andate a ricercare le stesse cose nei grafici, in altri grafici, insomma vi do un po' di compiti a casa anche oggi da fare teniamo sempre le bande di Bollinger, ormai ce le teniamo sul grafico perché tanto abbiamo capito che ci piacciono e allora andiamo subito a vedere cosa sta facendo Cardano, o meglio ADA nei confronti di Bitcoin il prezzo, fase di compressione qui, il prezzo sale e allora cosa succede? Le bande si aprono vediamo qui che la banda inferiore si spalanca, questo ci indica grande volatilità, il prezzo inizia a salire conferma, tra l'altro poi anche grazie ai volumi, ora i volumi prendeteli un po' con le pinze perché sono semplicemente riferiti agli scambi avvenuti su Bittrex, non a tutto il mondo però comunque interessante vedere che la crescita è confermata dai volumi le bande si spalancono quindi in grande volatilità, il prezzo sale, andiamo a vedere cosa fa chiude fuori dalle bande ok? quindi genera questo minimo qui fuori, scusatemi, questo massimo qui fuori dalle bande, fa il suo ritracciamento, genera un nuovo massimo però questa volta all'interno delle bande altra cosa interessante, quindi se noi andiamo a collegare questo massimo con questo massimo la linea sarebbe una linea ascendente se andiamo a fare la stessa identica cosa sull'oscillatore RSI che abbiamo qui sotto solleviamo pubblicità cosa succede? questo era il valore relativo al primo massimo questo è il valore relativo al secondo massimo e allora divergenza se andiamo a collegare i due massimi abbiamo una linea discendente vedete questa discrepanza? qui il prezzo per collegarsi disegniamo una linea che tende verso l'alto qui per collegare i due massimi tiriamo una linea verso il basso discrepanza viene confermato, infatti il prezzo inizia il suo ritracciamento trova un primo supporto sulla media mobile semplice delle bande di Bollinger a 20 periodi e ora cosa sta facendo? ve lo ripicciolisco che si vede un po' meglio cancelliamo queste cose il prezzo si sta triangolizzando o meglio si è triangolizzato perché ormai ha fatto e concluso andiamo a tirare questa trend line e quest'altra trend io parto direttamente dalle chiusure che facciamo prima e voilà, il prezzo quindi inizia a generare massimi decrescenti minimi crescenti, non sa dove andare, la media lo taglia perfettamente a metà totale indecisione, siamo in un triangolo, il prezzo lo rompe qui è avvenuto tutto in maniera molto rapida sarebbe stato più bello purtroppo non è stato così che il prezzo uscisse da questo triangolo facesse un minimo di, tra virgolette, una campana e tornasse, invece qui è uscito l'ha ritestato con la candela successiva ed è esploso l'esplosione anche questa volta ci viene confermata dall'apertura inferiore della banda guardate qui proprio la banda si stava leggermente chiudendo si spalanca i volumi ricrescono notare anche questa cosa molto interessante non mi ricordo se ve l'avevo detto anche nel video precedente però ve lo ripeto in ogni caso quando i volumi sono in crescita su un uptrend e in decrescita in una fase correttiva indica che comunque la spinta rialzista è molto forte dove possiamo rivedere ecco ad esempio anche qua il prezzo sale vediamo volumi sempre crescenti nel momento del suo ritracciamento i volumi sono decrescenti si mantengono molto bassi in queste fasi laterali non hanno grande slancio durante questa fase correttiva si mantengono veramente bassi e nel momento del rialzo i volumi si incrementano nella correzione diminuiscono e ora che riparte il rialzo i volumi si rincrementano nuovamente interessante perché vuol dire che comunque c'è molta voglia di investire e di acquistare questo token viceversa se avremmo visto comunque volumi molto alti anche nelle vendite allora sarebbe stata un'analisi a livello diciamo di interpretazione psicologica leggermente diversa in quanto le due forze si sarebbero equivalse quindi cosa abbiamo qui abbiamo come abbiamo detto una divergenza su bande di Bollinger il primo minimo ah ridai il primo massimo chiude fuori bande di Bollinger lo andiamo un po' a rivedere zoomando eccoci qua chiude fuori vedete il secondo massimo anche se genera un valore maggiore relativamente però inferiore perché è dentro le bande di Bollinger divergenza RSI e allora ci aspettiamo un ritracciamento una correzione perlomeno una fase dei stop della salita infatti la fase di stop avviene trova supporto sulla media mobile il prezzo incomincia a triangolizzare si comprime si comprime si comprime i volumi ci confermano che la tendenza è rialzista il prezzo si riapre le bande si riaprono e incomincia la nuova spinta che tra l'altro se andiamo a vedere ecco no in realtà il massimo assoluto è ancora un pochettino lontano però più o meno che poi non so se è il massimo assoluto ah vabbè c'è il primo giorno di contrattazione ma teniamo per buono questo quindi il massimo assoluto è ancora un pochettino lontano effettivamente però non poi così tanto il prezzo potrebbe anche arrivarci già in giornata ora vediamo qui sotto la banda che si apre si chiude un po' si sposa perché giustamente al variare della candela variano i valori staremo a vedere il prezzo come si comporterà intanto questo massimo già è stato rotto le due medie tendono tutte e due all'unisono verso il rialzo sono abbastanza distaccate l'uno dall'altro quindi al momento la tendenza sembra rialzista sicuramente nei confronti del bitcoin altra cosa interessante che stavo vedendo proprio ora è questa cosa qui vediamo un po' se io tiro una resistenza resistenza barra supporto qui no quindi resistenza resistenza molto risicata qui ragazzi non è chissà che è resistenza e supporto qui cioè risicata nel senso che il prezzo sale poi per un'ora scende poi la rompe quindi potrebbe essere quasi tra virgolettine irrilevante acquista rilevanza infatti che vediamo anche questo bellissimo supporto qui cioè le chiusure delle candele sono praticamente vanno a confermare questa cosa qui e guardate va anche intersecarsi precisamente con la media mobile ma se andiamo un pochettino dietro e scorriamo fino a qui guardate un po' questa era la resistenza di questo triangolo ascendente quindi io ho sempre il vizio di cancellare tutti i livelli voi magari per tenere ordine cancellate i livelli più tra virgolette limitati ma qualcuno lasciatene perché come vedete adesso vado a tirare qui tra bande medie si vede magari un po' poco lo vado a disegnare proprio con lo strumento che secondo me si vede un pochettino meglio quindi sarebbe questo ed eccoci qua ecco il nostro triangolo l'ho tirato un po' vabbè comunque le chiusure sarebbero un pochettino più basse ma adesso intanto per evidenziarvelo triangolo ascendente il prezzo si inscrive all'interno di questo triangolo genera massimi sempre uguali minimi crescenti il prezzo poi lo rompe e ha generato questa fase di compressione che poi il prezzo sostanzialmente è lateralizzato dopo averlo rotto non è venuto a retestarlo come sarebbe piaciuto a noi quindi poi entrare sul retest per la spinta qui semplicemente il prezzo ha poi lateralizzato e ha iniziato la sua fase di declino ma tranquilli interessante però sicuramente vedere come questa zona che aveva questa resistenza che aveva disegnato questo triangolo ascendente in questa parte del grafico stiamo parlando di fine novembre ora si è stata perfettamente guardate qua un'ora di contrattazione nel prezzo non riesce a superarlo e la seconda ora uguale rompe e torna a usarla precisamente come supporto quindi molto interessante vedere come una resistenza che nel passato aveva svolto una funzione molto importante ancora venga sentita oggi veramente qui ADA ci ha dato veramente molti spunti interessanti ci ha fatto vedere come una figura un pattern un triangolo ascendente disegnato ormai venti giorni fa no venti giorni fa no sedici giorni fa sia stato ancora risentita la resistenza perlomeno ad oggi come le bande di Bollinger continuano a darci ottimi segnali tra virgolette a prevedere delle piccole fasi di respiro confermate poi tra l'altro anche dalla divergenza in RSI ora il prezzo è ripartito a rialzo dopo essere uscito da questa triangolizzazione quindi incominciate magari a guardare i grafici con questi nuovi occhi a mettere insieme tanti piccoli pezzettini che vi facciano propendere da una parte piuttosto che da un'altra per iniziare poi a costruire il vostro trade qui come dicevamo abbiamo le medie che tendono verso l'alto abbastanza distanziate comunque entrambe puntano verso il rialzo qui avevamo avuto la conferma divergenza Bollinger divergenza RSI momento di di ritracciamento il prezzo va a cucirsi sopra questa media mobile quindi si va a triangolizzare la volatilità infatti va a stringersi si va a chiudere uscita fuori uscita violenta dal triangolo dal triangolo simmetrico la volatilità riprende i volumi sono nuovamente in salita le medie tendono verso l'alto e allora siamo decisamente propensi al rialzo ovviamente magari ora ci aspettiamo un minimo di ritracciamento perché entrare adesso sarebbe abbastanza avventato come possibilità per un ritracciamento avremo sicuramente il fatto che torni sul precedente massimo quindi il precedente massimo rotto venga riutilizzato per avere nuova spinta possiamo anche usare ovviamente i nostri cari e beniamati ritracciamenti di Fibonacci perché perché vediamo questo impulso rialzista e allora andiamo un po' a vedere dove potrebbe fermarsi il nuovo amo tracciato guarda caso questo livello sul precedente massimo rotto ed è quasi combacia con il 38.2 di Fibonacci quindi ottimo livello anche qui per aspettarlo per aspettarlo appunto per il suo retest e la sua continua camminata verso perlomeno il massimo assoluto che ha nei confronti del bitcoin io per oggi è tutto vi saluto vi auguro una buona giornata ciao ragazzi